Assicurare la sopravvivenza a lungo termine del grifone in Sardegna è l'obiettivo del corso degli agenti del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna che si è concluso nei giorni scorsi nel cantiere di Forestas ad Alghero e nell'aeroporto di Fenosu ad Oristano. Le attività sono state coordinate dalla veterinaria Raffaella Cocco, ricercatrice del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Sassari e responsabile dell'addestramento dei cani per l'unità cinofila con supporto degli agenti forestali che già fanno parte del nucleo cinofilo antiveleno. L'attività si è concentrata in un ciclo di quattro giornate teoriche e operative. Durante la sessione teorica si è parlato del grifone in Sardegna, dei risultati del primo progetto e dell'aerale del progetto appena iniziato. Si è parlato delle altre minacce su cui interviene il progetto finanziato da LIFE 2014-2020, il nuovo programma per l'ambiente e l'azione per il clima di cui sono partner anche agenzia Forestas, Vulture Conservation Foundation ed è distribuzione su cui il corpo forestale avrà voce in capitolo per poi concentrarsi sul fenomeno degli avvelenamenti e concludere con un escursus su etologia e fisiologia del cane, modo di comunicare benessere e salute, tecniche educative cinofile, conduzione del cane, sistemi di ricerca e legislazione. Nella parte pratica si è illustrata l'attività delle unità già attive, come ci si equipaggia, ci si divide compiti, si pianificano interventi e pattugliamenti, protocolli seguire in caso di rilevamento delle carcasse, poi le prove dimostrative coi cani in addestramento e quelli in attività su come si svolgono una ricerca e un ritrovamento. Sfortunatamente ancora oggi nel mondo agropastorale c'è chi difende coltivazioni e allevamenti avvelenando la fauna selvatica considerata come nemico da estirpare ad ogni costo, anche ambientale. Topicidi e altri materiali altamente nocivi per gli animali vengono acquistati legalmente e usati in modo improprio con possibili ripercussioni dirette e indirette anche sulla salute degli animali domestici, dell'uomo e dell'ambiente.